In questo video ripercorreremo brevemente l'età del workshop 5, che si è concentrato sulle discipline tecnologia e scienze, sottolineando i possibili collegamenti fra le due discipline. Partiamo da una mappa che riassume i nuclei e i nodi di tecnologia e scienze, che derivano da un'analisi delle indicazioni nazionali del 2012. Qui trovate evidenziata la scelta del nodo di cui ci siamo occupati nel workshop 5, materie e materiali, stati e trasformazioni. Esistono certamente molti altri collegamenti tra le due discipline che non sono stati illustrati qui, che possono però essere affrontati in modo simile, per dirne uno, il tema della sostenibilità ambientale. Scelto il nodo, scegliamo i traguardi dal curriculum verticale di istituto. Teniamo presenti le conoscenze disciplinari, il metodo delle discipline e analizziamo possibili situazioni, dividendole in personali, sociali e di studio. Durante il workshop sono stati dati alcuni spunti, alcune suggestioni in merito ad attività da proporre in verticale, nei diversi ordini di scuola, in tecnologia e in scienze, in merito ai materiali, energie e informazioni, stati e trasformazioni. Vi rinviamo alla presentazione del workshop per dettagli ed eventuali approfondimenti. Ora vogliamo sottolineare l'importanza, la rilevanza, date i processi di apprendimento che vogliamo stimolare negli studenti, proponendo loro queste attività. I docenti sono quindi andati a caccia dei processi attivati dagli studenti in opportune situazioni di apprendimento. Successivamente gli stessi processi sono stati suddivisi nelle quattro componenti della competenza. Vi presentiamo i prodotti di questo workshop per la primaria e per la secondaria di primo grado. Grazie per l'attenzione.